blanco questo meraviglioso pastore mix shepherd che ha una particolarità scopriamola lui è blanco è un mix shepherd pastore australiano è un cane di due anni ha una piccola particolarità è sordo e ecco questo non è assolutamente un problema perché lui ha dolce ha bisogno di contatto ha bisogno di stare con le persone venite a conoscerlo alla nostra associazione animals emergency non perdete tempo aiutate in blanco ad avere una bellissima nuova vita fuori dal canile telefonate subito al 3 3 3 5 4 8 0 7 4 9 oppure scrivete a porta mia casa chiocciola dalla parte degli animali sui.it